Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo con analisi modellistiche europee e previsioni su scala nazionale curato da Meteograd. Bollettino meteo per domenica 8 maggio 2022. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Una vasta depressione nord-atlantica porta all'abbassamento di latitudine del flusso perturbato oceanico andando così a schiacciare verso sud l'alta pressione che interessa tutta l'Europa centro-occidentale, estesa fino sul settore russo. Questa alta pressione inizierà ad interessare anche la parte più alta del Mediterraneo, mentre il minimo depressionario presente sul sud Italia tende gradualmente ad indebolirsi ed a traslare verso sud. Tuttavia in quota permane aria fresca ed instabile responsabile dell'innesco di temporali pomeridiani sui settori italo-balcanici. Previsioni meteo in area italiana per il giorno domenica 8 maggio 2022. Nord. Marcata in stabilità mattutina e pomeridiana con addensamenti più compatti sui settori alpini, sull'Emilia centro-occidentale e sulla bassa Lombardia, dove si svilupperanno temporali a tratti intensi e diffusi. Dalla serata tendenza ad una rapida attenuazione della fenomenologia con ampie schiarite su tutte le zone. Centro. Nuvolosità sparsa al mattino con formazione di nubi termoconvettive durante le ore pomeridiane alle quali si associeranno rovesci e temporali che interesseranno buona parte dei rilievi e delle zone interne. La fenomenologia risulterà più diffusa ed intensa sui settori appenninici, nelle zone interne centrali e lungo la fascia costiera tirrenica. Dalla sera attenuazione delle nubi e dei fenomeni associati. Sud e isole. La circolazione depressionaria che nei giorni scorsi ha insistito tra le due isole maggiori si sposta definitivamente verso sud. Tuttavia permarranno condizioni di tempo marcatamente instabile con spazio per diffuse piogge e temporali sulle due isole maggiori ed in forma più isolata sui settori peninsulari. Dalla sera fenomeni in attenuazione con schiarite in ingresso da nord. Temperature massime in lieve aumento nelle zone con minore fenomenologia pomeridiana. Minime anch'esse in lieve aumento. Ovunque su valori al di sopra della media del periodo. Ventilazione prevalentemente moderata dai quadranti settentrionali con qualche residuo rinforzo sulle isole ed in occasione dei temporali. Vento in attenuazione dalla sera. Mari da mossi sui settori settentrionali fino a localmente molto mossi altrove con moto ondoso in generale attenuazione. Grazie a tutti della vostra attenzione. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale per ricevere il bollettino meteo aggiornato. Fai clic sulla campanellina per attivare le notifiche all'uscita di nuovi contenuti.